Ciao e benvenuto a una nuova puntata di Ti racconto il libro. Se questa è la prima volta che capiti su questo canale, ti invito a iscriverti per non perdere nessuna delle novità in arrivo e se ti piacciono i tipi di contenuti che ti propongo, come ad esempio questa video recensione, ti invito anche a lasciare un like. Bene, ora che ho fatto tutti i compiti a casa, posso finalmente andare a parlare del romanzo di oggi. E che romanzo? Infatti il libro che sto per raccontare è Mi limitavo ad amare te di Rossella Postolino, edito da Feltrinelli. Ora, è chiaramente una nuova uscita del 2023, ma parlare di una nuova uscita del 2023 ormai siamo ad aprile, quindi insomma dice poco, ma quel che dice molto invece di questo romanzo è che è da pochissimi giorni entrato nella rosa dei finalisti del premio Strega. Ebbene sì, è uno dei titoli che si contenderanno il premio e quindi già questo ci incuriosisce molto, ma andiamo a parlare della storia. La storia è il racconto della vita di un bambino, mi verrebbe da dire, ma dire solo di un bambino sarebbe riduttivo, infatti potrei dire che i protagonisti di questo romanzo sono diversi. Primo fra tutti però, e il primo anche che incontriamo, è Omar, un bambino nato e cresciuto nella Sarajevo degli anni della guerra, quindi siamo negli anni 90. Il romanzo abbraccia un arco temporale piuttosto ampio, quindi va dai primi anni 90, agli anni della guerra, sino a oltre gli anni 2000. E dicevo, inizia appunto con Omar che durante un episodio ovviamente di carattere bellico perde la mamma, o almeno crede di perdere, insomma perde di vista la madre, si separa dalla madre e quindi la mamma gli dice corri corri e lui corre, scappa. E poi lo ritroviamo poco dopo in un orfanotrofio insieme al fratello maggiore Sen. L'orfanotrofio di Sarajevo nel quale si trovano è ovviamente una struttura fortemente danneggiata e praticamente semiabbandonata, perché appunto c'è la guerra e quindi è molto difficile per le persone mantenere, per lo Stato, mantenere in piedi questo genere di strutture. E in questa struttura dove praticamente i bambini comandano loro stessi, vivono quasi in maniera autogestita, Omar e Sen incontrano anche altri ragazzi che sono lì nella struttura e fra tutti Nada. Nada ha un fratello maggiore che la protegge, questo perché lei è una bambina molto particolare ed è sicuramente particolare già fisicamente parlando perché le manca un dito. E' molto particolare soprattutto perché ha un carattere che non passa inosservato e ha anche un nome che non passa inosservato. Infatti quando lei si presenta dice io sono Nada e poi quasi sempre aggiunge come niente in spagnolo. Ed è come se lei si dichiarasse autonomamente mancante in qualcosa, ma a questo ci arriviamo più tardi quando raccontiamo nello specifico il personaggio. E quindi dicevo questi ragazzini vivono in questa struttura semi abbandonata in condizioni disperate, senza elettricità, senza acqua, con cibo scarsissimo. Infatti loro spesso sono costretti a uscire e vagare per la città per cercare di prendere e trovare qualcosa, insomma mangiare quello che riuscivano veramente a trovare con il rischio di essere uccisi dai cecchini. E questa purtroppo è storia. E la situazione degenera sino a un punto in cui lo Stato italiano riesce praticamente in collaborazione con l'ONU e insomma le strutture che erano ancora in piedi all'epoca, riesce a organizzare un trasferimento di questi ragazzi. Quindi questi ragazzi vengono praticamente presi e vengono portati attraverso un viaggio, come un viaggio piuttosto duro da affrontare, vengono portati in Italia. E in Italia vengono accolti in una struttura di carattere religioso gestita dalle suore. E questo è importante definire, è importante sottolinearlo perché l'approccio dei ragazzi a questa nuova realtà è molto diverso. Infatti, mentre Sen cerca di adattarsi a questa nuova condizione e comunque non dico che è ben felice di lasciare Sarajevo, ma comunque è felice di lasciarsi alle spalle il dolore, la morte, tutto l'orrore che una guerra, tutto il bagaglio di orrore che una guerra porta con sé. Omar invece non vuole assolutamente andarsene, lui vorrebbe rimanere a tutti i costi a Sarajevo, vorrebbe rimanere a tutti i costi in città perché lui dice mia madre è qui, io non credo che sia morta, come dicono tutti, è vero che l'ho persa di vista perché poi quando c'è stato appunto quell'episodio lui ha sentito la voce della madre che gli diceva corri e non si è più voltato e ha cominciato a correre, quindi non sa effettivamente che cosa sia accaduto a sua madre ma è convinto che lei sia viva e vuole a tutti i costi ritrovarla e questo è un dolore che lui si porta dentro e che è un dolore che si è piantato nel suo cuore ma che germoglia e produce fiori di rabbia, mi verrebbe da dire. E poi c'è Nada che parte senza il fratello che invece deve per forza rimanere in patria per combattere e che incontra proprio durante il viaggio un altro ragazzo Danilo che in realtà lui i genitori ce li ha ma proprio perché non è più sicuro vivere a Sarajevo è costretto comunque, Sarajevo e tutte le cittadine comunque che si trovano all'intorni è costretto comunque ad andarsene via, ad andare in Italia e quindi alloggiano tutti presso questa struttura inizialmente. Una struttura dicevo di carattere religioso e qui anche c'è una distinzione da fare perché mentre Nada è cristiana Omar no. Infatti quando ci sono degli episodi anche prima della partenza per l'Italia nei quali i due legano molto e ad esempio quando Nada lo porta in chiesa gli racconta di Gesù, del mangiano le ostie non consacrate e lei gli racconta appunto che cosa vuole dire l'ostia insomma gli dice un po' di racconto, un po' quella che è la sua religione a modo suo ovviamente con dei modi molto bruschi, con dei modi molto rudi come insomma sono tipici di Nada appunto e Omar invece non conosce questa religione infatti anzi è piuttosto come dire guardingo, ecco è un po' scettico come è normale che sia dal suo punto di vista. Dicevo dimorano per un po' questi ragazzi in questa struttura gestita dalle suore fino a quando a un certo punto alcuni di loro vengono affidati a delle famiglie italiane ufficialmente in via temporanea fino a quando non sarà sicuro il rimpatrio insomma non sarà sicuro tornare per tutti loro a Sarajevo e provare quindi a fare dei ricongiungimenti quindi cercare i loro genitori e fare in modo che loro possano tornare in famiglia nelle loro case mentre invece chiaramente per quelli che avranno effettivamente perso i genitori si apriranno scenari diversi magari appunto l'aduzione e via dicendo. I primi, diciamo tra i primi ad essere affidati ci sono proprio Omar e Sen vengono affidati insieme a una coppia di una coppia italiana fortemente cattolica che non ha figli che li desiderava ardentemente e che a loro non pare vero di avere due bambini e la percezione che si ha nel momento in cui Omar e Sen entrano in questa famiglia è che in realtà questi genitori vogliono disperatamente che Omar e Sen li amino come fossero proprio i loro genitori e questa cosa ovviamente non accade o almeno non accade per entrambe perché mentre Sen ha un atteggiamento molto più conciliante inizialmente sembra quasi che lui voglia come approfittarsene perché dice ok loro sono il mio tramite per lasciarmi alle spalle il passato per stare meglio, per non vivere più nella miseria e nella disperazione e nella guerra, nella violenza che vivevo quando ero a Sarajevo quindi io faccio tutto quello che loro mi dicono di modo che insomma ho un tetto sulla testa insomma ho una vita serena, pacifica e con tutti quanti gli agi del caso mentre Omar ha un atteggiamento totalmente diverso lui fa la guerra a questi due genitori nel vero senso della parola perché innanzitutto non li accetta come tali perché continua a sostenere di avere una madre e che non ha bisogno di qualcuno che sia una sorta di surrogato perché sua madre ce l'ha, è viva, vuole assolutamente trovarla e si sente praticamente non un bambino affidato in via temporanea ma un bambino rapito la sensazione che Omar ha è proprio questa cioè di essere stato strappato dalla sua vita dalle sue radici, dalla sua casa, dalla sua famiglia dalle braccia di sua madre che pure ha perso di vista di fatto ha perso ed essere gettato in una casa con persone che gli sono estrane e che continuano a chiamarlo figlio praticamente che pretendono da lui un amore filiale cosa che lui non riesce a dare gli sembra una vera e propria forzatura gli sembra un sopruso gli sembra un abuso e una violenza nei suoi confronti anche perché questa coppia che li adotta è appunto, come dicevo, fortemente cattolica e quindi impone loro la religione cattolica mentre loro non erano nemmeno cristiani e dall'altra parte invece c'è Nada che non viene affidata rimane nella struttura e rimane lì con tutto quello che ne consegue perché, come dicevo, anche lei ha un bel caratterino ma come dicevo prima durante il viaggio tra Sarajevo e l'Italia questa struttura è il San Lorenzo loro incontrano anche un altro ragazzo che si chiama Danilo questo Danilo ha i genitori ma è stato costretto a fuggire proprio a causa chiaramente della guerra e lui invece va in una struttura diversa ma questo andrà poi in una struttura diversa mentre sono tutti insieme ma questo Danilo instaura con Nada un rapporto molto particolare nel senso che nel momento in cui Nada conosce Danilo si delinea una sorta di triangolo non dichiarato nel senso che Omar è innamorato di Nada lui è innamorato di Nada dal primo momento in cui l'ha vista probabilmente è un sentimento, un attaccamento in lei riconosce la sua disperazione la sua rabbia le sue radici riconosce se stesso e in sotto questo aspetto lei è quasi tranquillizzante ma il suo carattere così selvaggio indomabile la rende anche molto affascinante per Omar insomma è misteriosa Nada è una ragazzina e poi diventerà un adolescente molto misteriosa e molto affascinante proprio per questo mentre Nada vede Omar praticamente come un fratello lei ha un amore diverso dunque è un amore diverso per lui ma è molto attratta sin dal primo momento in cui si incontrano sul Pullman che li porta via da Sarajevo da Danilo che è un ragazzo un po' più grande e a lui darà e stringerà la mano con lui si sentirà protetta con lui scoprirà dei sentimenti totalmente inediti per lei e grazie a lui passerà attraverserà proprio quella porta che divide l'infanzia dall'adolescenza quindi anche con la scoperta dei primi sentimenti dei primi amori delle prime cotte delle prime gelosie perché ovviamente come dicevo la narrazione abbraccia un periodo piuttosto lungo che appunto parte dall'infanzia ma arriva ben oltre la loro adolescenza e quindi cioè insomma nel mezzo c'è tutto quello che sono le vite di adolescenti perché Danilo farà la sua vita la sua bella vita da adolescente con le sue esperienze poi andrà all'università si ricongiungerà alla madre e alla sorella che arrivano a un tratto a un certo punto della storia arrivano da Sarajevo e rimarrà e anche loro rimarranno in Italia per un bel po' insomma per un bel po' mentre Nada rimane come dicevo sempre solo nella struttura non viene affidata a nessuno e mentre Sen durante il corso degli anni appunto riesce a trovare una strada trovare una sua strada un modo di convivere con questa nuova realtà Omar invece ci va a sbattere contro praticamente ci si oppore talmente tanto che a un certo punto ci va a sbattere contro e va a incappare a prendere in realtà una strada che poi è quella della violenza che è quella della droga che è quella che lo porterà all'allontanamento definitivo dalla sua famiglia affidataria ma per lui in un certo senso è un castigo ma è anche una liberazione perché come dicevo non li ha mai voluti considerare non li ha mai potuti considerare come i suoi genitori cioè lui si sentiva un bambino rapito si sentiva un bambino strappato appunto alla sua terra e alle sue radici e alla sua famiglia e quindi tutto sommato nonostante inizialmente provi a chiedere loro perdono per tutte quante le cose abbastanza gravi che combina ma in realtà poi alla fine vive questa condizione come una sorta di liberazione per quanto poi la sua vita sia cadda va a cadere in una spirale di disperazione violenza e poi spesso lui finisce in carcere quindi tutti diventano grandi i rapporti con il fratello non sono dei migliori nel senso che non sono totalmente assenti ma nemmeno così insomma così forti e saldi nel frattempo come dicevo la madre di Danilo che è una giornalista continua il suo lavoro d'inchiesta sui bambini di Sarajevo dall'Italia e lei va a indagare sulle storie di questi bambini perché nonostante poi gli anni passino e la guerra ufficialmente finisca questi bambini non vengono rimpatriati e quindi diciamo c'è una grande lacuna c'è un problema di fondo perché questi bambini appunto non tornano a casa non tornano da loro famiglie non si riesce a capire se queste famiglie siano effettivamente sparite state risucchiate e quindi dalla guerra e quindi tutti quanti siano morti oppure c'è qualcuno a cui affidarli insomma non vengono svolte nemmeno troppe indagini e questa donna invece continua a lavorare continua il suo lavoro di ricerca poi viene a mancare e sarà in seguito Danilo a prendere in un certo senso prendersi carico del lavoro della madre perché lui diventa avvocato prendersi carico del lavoro della madre portare avanti questo lavoro sino a quando non farà delle scoperte che porteranno a chiudere una sorta di cerchio tra Omar Nada e appunto lui stesso Danilo non voglio diciamo fare troppi spoiler però insomma questo è grosso modo a grandi linee la storia l'ambientazione come dicevo è quella di Sarajevo quindi quella di una terra di una città distrutta dalla violenza della guerra e la violenza noi l'autrice ce la fa toccare con mano attraverso le parole della mamma di Danilo perché ci sono all'interno del romanzo ci sono delle pagine scritte dalla mamma di Danilo una sorta di articoli o meglio una sorta di diario non si capisce molto bene nel quale vengono raccontati degli episodi veramente verosimili quindi io immagino che questi arrivino dalla realtà che poi è la realtà che ci hanno consegnato le cronache e sono molto molto duri forti e difficili da digerire da lettore e poi si sposta invece nella narrazione si sposta in Italia e quindi l'ambientazione è totalmente diversa a questo punto ma la miseria è la stessa soprattutto quando si racconta la storia di Omar ma non solo anche la storia di Nada è molto difficile perché lei in realtà poi alla fine durante la storia ha un avvicinamento con Danilo lei e Danilo sono come due calamite che si attraggono ma non riescono neanche a stare insieme cioè a un certo punto si respingono cioè si attraggono e si respingono continuamente è come se ci fossero delle forze magnetiche che lottano tra di loro e allo stesso tempo si attraggono fortemente e si probabilmente si amano al punto da odiarsi e da non poter fare a meno l'uno dell'altro ma non poter stare l'uno con l'altro e vorrei fare un piccolo spoiler quindi ve lo dico qui vi scrivo che c'è lo spoiler e a un certo punto infatti si scopre tra l'altro verso la fine che Nada partorirà il bambino di Danilo che si chiamerà Nino questa è una è una gran cosa anche perché Danilo poi si sposerà con un'altra donna italiana e quindi nel momento in cui lo scopre si ritrovano loro due rimane molto spiazzato ecco quindi fine dello spoiler allora andiamo a parlare appunto dei personaggi i personaggi sono tanti complessi sfaccettati ma mi concentrerò soprattutto appunto su Omar che è questo ragazzino che poi diventa uomo e poi diciamo che il senso di perdita che lo lo accompagna dall'infanzia nasce nell'infanzia quando lui appunto perde la madre se lo porta poi dietro sino a quando questo cerchio fantomatico non si chiude in un modo inaspettato non voglio dire di più ho già fatto lo spoiler quindi non posso dire di più e è un bambino che si è un bambino è un ragazzo che cresce con un vuoto dentro cresce con una fame d'amore lui non aveva una madre amorevole non aveva una madre da pubblicità del mulino bianco ecco per capirsi ma amava fortemente sua madre e quindi è questo legame del quale lui si sente privato che lo disturba lo distrugge lo strazia nel vero senso della parola e lacera qualsiasi rapporto e rende impossibile proprio rende impossibile la possibilità per lui di amare i suoi genitori adottivi lui si sente di fatto rapito si sente di fatto privato di qualcosa che lui aveva e gli viene dato una sorta di sostituto diciamo praticamente ma perché io devo avere questi genitori se ce li ho già ecco è una cosa con la quale non riuscirà mai a fare pace e in questo senso diciamo in questo forte senso di spaisamento che lui prova nada è l'unica è l'unica certezza nada è l'unica l'unico legame con la sua terra con le sue origini con la realtà dell'orfanotrofio che ha vissuto sin da sin da bambino ed è l'unica che in un certo senso lui dice è l'unica che mi capisce è l'unica che sa quello che ho dentro perché ce lo ha dentro anche lei nada invece di contro è una è una bambina che è manchevole si sente manchevole non è manchevole si sente manchevole si sente manchevole perché le manca una parte del corpo si sente manchevole perché il suo nome vuol dire niente si sente manchevole perché si sente costantemente rifiutata una bambina che non sa piangere è una bambina che non sa esprimere con parole con dolcezza amore è una bambina che non ha mai conosciuto la tenerezza o almeno questa è la sensazione che si ha e anche stando al racconto del suo vissuto precedente all'orfanotrofio è una bambina che è nata in un contesto familiare veramente disgraziato mi verrebbe da dire nella disperazione più più totale più in una situazione veramente cupa dal punto di vista familiare e poi c'è Danilo che è questo ragazzo tutto sommato abbastanza non dico benestante ma comunque insomma brughese ecco mi verrebbe da dire rispetto agli altri comunque vivevano in realtà totalmente diversa che guarda questi ragazzi Annada e Omar con occhi totalmente diversi si condividono la stessa la stessa tragedia la tragedia della guerra ma hanno delle radici in comune ma non troppo perché alla fine il modo in cui sono cresciuti quello che hanno vissuto visto i loro contesti familiari peseranno e pesano tantissimo Danilo è un ragazzo in apparenza molto più equilibrato ha tutto un altro tipo di traumi che derivano da da altro da una madre da una madre molto votata al suo lavoro da un padre mediamente assente i suoi problemi insomma sono davvero altri è un'infelicità diversa un'infelicità che non nasce dalla violenza e dalla disperazione rispetto a quella come quella di Omar e di Annada ora andiamo al linguaggio il linguaggio è certamente un linguaggio come dire unico nel suo genere mi verrebbe da dire è un linguaggio molto accurato molto graffiante che ti colpisce e va dritto al cuore mi verrebbe da dire è un linguaggio che non fa sconti molto crudo molto violento molto cruento disperato l'apostorino ci ci consegna una storia veramente unica verosimile nella sua drammaticità verosimile nella sua rabbia verosimile nella violenza nella disgrazia e nella disperazione che si tocca con mano si tocca nelle parole di Omar si tocca negli sguardi di Nada e si sente anche nelle parole di Danilo che è un ragazzo che amava e ama Nada ma non riesce ad amarla allo stesso tempo non riesce a stare con lei forse proprio perché gli ricorda tutto quello che lui vorrebbe solamente dimenticare o che vorrebbe smettere di essere è quel è quel passato del quale al quale siamo legati magari però al contempo ce ne vergogniamo ecco questo mi verrebbe da dire ora se consiglio questo libro sì è un libro che assolutamente consiglio ma solo se siete interessati a questo genere di storie a storie che siano vere che peschino da una realtà che non fanno sconti a nessuno è un libro che non è assolutamente una coccola non ti fa le coccole anzi ti prende normalmente diciamo ogni due tre pagine ti prende a schiaffi e ti scuote molto forte insomma cerca di farci aprire gli occhi su una realtà che forse abbiamo sottovalutato su una realtà che forse non conosciamo abbastanza o non conosciamo affatto quella dei bambini di Sarajevo che non sono mai tornati a casa perché tra i due stati non si sono parlati bene non hanno fatto ricerche o hanno fatto finta di non vedere perché poi c'è stato anche questo insomma sono delle tematiche non semplici da affrontare da mandar giù e sono anche degli racconti violenti in alcuni casi che non sono semplici da digerire scusatemi ma qui sta diluviando quindi i rumori che sentite in sottofondo derivano da questo bene io credo di aver detto veramente tutto su questo romanzo meraviglioso dal mio punto di vista meraviglioso quindi io lo consiglio se amate romanzi ben scritti amate storie che vanno a rovistare nelle pieghe più buie dell'animo umano e anche nelle pieghe più buie della storia quindi che dire io vi invito a leggere mi limitavo ad amare te di Rossella Postorino e vi aspetto alla prossima puntata di ti racconto un libro e vi auguro buonissima giornata muah e vi auguro e vi auguro